L'altra cosa che per me è molto interessante del mondo dei maker è che si dice spesso che nel mondo della tecnologia il numero delle donne che sono presenti è abbastanza basso, questo purtroppo è tragicamente vero, però nel mondo dei maker è leggermente diverso, secondo me c'è una perciutazione molto più ampia e lo vediamo anche qui. Alla Maker Faire non ci sono le tipiche ragazze che si piazzano di fianco allo stand che non sanno neanche dove sono, le ragazze che trovate qui sono tutte ragazze che sono qui perché fanno qualcosa e hanno qualcosa da dire e sono tante e secondo me io sono fiero che il mondo dei maker ha questa perciutazione molto più elevata di donne che il resto del mondo della tecnologia.